Quando ho saputo della Edison Digital Academy ho pensato wow che esperienza fantastica voglio essere da subito a bordo di questo progetto di trasformazione digitale pazzesco sono rimasta colpita dalla metodologia comunque di apprendimento che i ragazzi di talent garden hanno condiviso durante i corsi. Ho acquisito la consapevolezza che comunque un'azienda come Edison che è sempre stata leader sul mercato oggi per continuare ad essere leader deve assolutamente trasformarsi trasformarsi e digitalizzarsi. Edison ha scelto Talent Garden perché doveva lavorare sulle competenze e sulla cultura. Abbiamo trovato in Talent Garden delle competenze di livello internazionale ma soprattutto abbiamo trovato una cultura che è quella che andavamo cercando. Talent Garden nasce da un'idea imprenditoriale, è nata come una start up e ha mantenuto questa identità che per noi è stata molto preziosa. Abbiamo formato circa 150 colleghi, puntiamo a formarne un migliaio. È fondamentale per andare ad innovare tutti i business su cui Edison sta lavorando. Oggi è imprescindibile un percorso di trasformazione digitale come quello intrapreso da Edison con di risposta 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 di